Tutto il collegio è solo su RaiPlay, scarica l'app. Se ti dispari e quindi ho pensato che la cosa migliore in questi casi è dare l'esempio. E tu è Romano? Ma va bene. Avrei voluto ballare con Sara però insomma c'è anche la professoressa, me la ritrovo e ho detto va bene certo. Mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Mi sono invidiavo al Romano, era là che toccava il professor Renzi, pure buona. 5, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29. Bravissimi tutti però è più ganso e più figo sono io. Ha votato l'ormone. Il concorso canoro danzante è stato vinto dal signor Romano con la sua compagna d'eccezione. Ha realizzato il sogno degli altri sette maschi nella camera. E adesso al fortunato non resta che riscuotere il bottino. Differente, ringrazio. C'è una margherita entrambe. Grazie mille. Se l'è meritata. Grazie mille, grazie. La faccia è brutta ed è la pizza. Il lupo quando non arriva all'uva dice che ha volpe. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille.